Corre più pressione sui lunghi anche fuori è una delle chiavi della partita Anche perché la Polonia tira meglio da fuori con i lunghi che con i piccoli È una squadra strana ma noi in attacco qui possiamo fare qualcosa Mancinelli ci prova ma è corto Sempre da 2-3 metri Bisogna andare ad attaccare D'Annello Magari cercare il fallo Quindi l'attacco fino in fondo, vedete? Dei polacchi che ci provano quantomeno Il rimbalzo ci premia Buona posizione di Pensiva stavolta taglia fuori di Barconato E poi a razzo Bulleri Mette il motore nelle gambe, lo accende al momento giusto Accelera e costringe al fallo Schiniewski, primo personale Stiamo caricando di falli le guardie polacche, va bene C'erano anche liberi Belinelli e Basile a destra Ma ovviamente era difficile servirli in questa occasione Buu, che tiro! 3 punti Belinelli, meno 1 Questo è uno dei suoi che quando va dentro ti fa venire i brividi E poi Grazie a tutti.